Ragazzi, oggi abbiamo realizzato un pacchero rigato alla puttanesca con uno sgombro grigliato Iniziamo dall'aglio facendo un soffritto in padella, tritriamo il prezzemolo Aggiungiamo la passata di pomodoro, del peperoncino, capperi, olive taggiasche, sale e pepe Apriamo il nostro filetto di sgombro grigliato all'olio d'oliva e lo sfilacciamo così lo metteremo nel nostro sugo Scoliamo i paccheri, aggiungiamo dell'acqua di cottura Prezzemolo Li saltiamo Andiamo ad impiattare Altri filetti di sgombro grigliati all'olio d'oliva Fogliolina di prezzemolo E buon appetito!